Oggi vorrei provare a rispondere a una richiesta che mi è stata fatta più volte e per più mesi di seguito, ovvero parlare del popolo dei Siculi. Parleremo quindi dell'origine del popolo dei Siculi, parleremo del rapporto tra i Siculi e il mondo greco, parleremo di una figura emblematica del mondo Siculo, ovvero un re, un condottiero a nome Ducezio, e infine parleremo di alcuni aspetti religiosi caratteristici del mondo Siculo. Prima di cominciare come sempre vi ricordo però di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di condividere sui vostri social quei filmati che trovate più interessanti. Ed ora cominciamo a parlare dei Siculi. Le tradizioni classiche relative all'origine dei Siculi sembrano variare d'autore ad autore, anche se mostrano di avere tutte in comune l'idea di una provenienza dalla penisola italica. Tusciti addirittura si spinge a scrivere che il nome stesso di Italia sarebbe da far derivare da quello di un monarca dei Siculi, Italo, mettendo così anche in relazione Siculi e Itali. Sempre Tusciti descrive che i Siculi sarebbero fuggiti in Sicilia per scampare alle vessazioni degli opici, e che dopo aver traversato lo stretto di Messina su delle zattere avrebbero dato battaglia ai Sicani, sconfiggendoli e sospingendoli nella parte occidentale dell'isola. Al contrario, ellanico di Lesbo scrive che i Siculi originariamente erano una frazione degli Ausoni, e che il loro re Siculo li aveva guidati in Sicilia per sfuggire agli Iapigi. Antioco, invece, scrive ancora che originariamente i Siculi erano parte degli Enotri. Tre autori diversi, tre tradizioni diverse, tutte e tre però con dei punti in comune, in particolare il legame tra i Siculi e popoli facenti parte della famiglia dei latino falisci. In questo quadro si inserisce in maniera evidentemente dissonante la testimonianza di Filisto, secondo il quale, al contrario, i Siculi sarebbero stati dei Liguri, scacciati in Sicilia dagli Umbri. Un legame con la famiglia dei latino falisci in qualche modo sarebbe rafforzato da una testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso, secondo il quale i Siculi avrebbero abitato le zone dove poi sarebbe sorta Roma. Effettivamente il dato archeologico ci offre dei documenti che mostrano una appartenenza dei Siculi alla famiglia dei latino falisci, nello specifico il Guttus di Centuripe, una ceramica che riporta delle iscrizioni in Siculo che mostrano chiaramente dei legami con la lingua latina. Quindi noi dovremmo effettivamente inquadrare i Siculi come un popolo facente parte dei latino falisci, quella grande famiglia linguistica che era giunta in Italia intorno al XIII secolo a.C. e che aveva dato vita alla realtà dei Veneti, alla realtà dei Latini, alla realtà dei falisci e appunto anche alla realtà dei Siculi. Quella tradizione che invece vorrebbe i Siculi legati a un popolo citato dai documenti egiziani, gli Shekelesh, una parte dei Popoli del Mare, è ovviamente senza alcun fondamento solido, se non il fatto che effettivamente noi abbiamo attestazioni in Sicilia di rapporti saltuari con i Micenei già dall'età del Bronzo, e che se effettivamente i Popoli del Mare facevano parte di una qualche coinè Micenea quindi potrebbero esserci dei punti di contatto, ma siamo assolutamente nel campo della speculazione. Quindi rimaniamo con i Siculi come parte della grande famiglia linguistica dei latino falisci. I confini occidentali di quella porzione della Sicilia popolata dai Siculi sembrano corrispondere al corso del fiume Salso. Noi questo però va detto lo ricaviamo principalmente in maniera indiretta, andando a confrontare quella che sarà la futura sfera di influenza in Sicilia dei Cartaginesi con quella che invece sarà la zona di pertinenza dei Greci, e questo perché il mondo cartaginese andrà in una certa misura a sovrapporsi agli Elimi e ai Sicani, mentre il mondo greco andrà a sovrapporsi a quello dei Siculi. Durante tutta la seconda metà dell'VIII secolo a.C. noi assistiamo effettivamente a una penetrazione greca nell'area Sicula della Sicilia che è contraddistinta a volte da un elevato tasso di belligeranza. Ad esempio nel 734 a.C. i Corinzi strapperanno con le armi ai Siculi i terreni dove sorgerà la colonia di Siracusa. Nel 729 a.C. invece saranno i Calcidesi a strappare dei terreni ai Siculi con le armi, i terreni dove poi verranno fondate la colonia di Leontini e quella di Catania. Infine nel 728 a.C. invece un re Siculo a nome Iblone, scrive Tucidide, concede una porzione dei suoi terreni a dei coloni megaresi che fonderanno Megara Iblea. Il fatto che Megara Iblea prenda il suo nome dal re Siculo Iblone probabilmente indica che in questo caso l'occupazione greca non è violenta, ma Iblone concede volontariamente le sue terre ai nuovi arrivati. Certo, noi non sappiamo se Iblone si comporta così perché si rende conto che non ha la forza di opporsi. In ogni caso bisogna sottolineare che la penetrazione greca in Sicilia è sicuramente contraddistinta da un alto tasso di violenza, e questo vedremo avrà delle conseguenze, perché porterà in risposta alla nascita di una realtà Sicula che diventerà man mano sempre più coesa, sempre più belligerante e che si opporrà al mondo greco. Il padre di questa realtà noi lo conosciamo grazie a Diodoro, e Diodoro ce ne parla chiamandolo con un nome, il nome di Ducezio. La figura di Ducezio è emblematica per la storia della Sicilia e dei Siculi, e Diodoro ce la presenta di volta in volta con degli appellativi differenti. Diodoro chiama Ducezio re, ma lo chiama anche condottiero, e a volte lo chiama anche tiranno, quindi risulta per noi molto difficile riuscire a capire esattamente i contorni della sua figura, capire se Ducezio fosse un avventuriero che stava perseguendo un suo personale progetto egemonico, oppure se si trattasse effettivamente di un re dei Siculi. Va detto che grazie a Tucidide, che cita personaggi come Arconida o Iblone, noi sappiamo che l'istituzione monarchica era nota presso i Siculi. Non sappiamo però se questa istituzione nasce proprio a seguito della necessità di creare una realtà fluida e solida per contrapporsi all'espansionismo greco. Dinanzi a questa considerazione la domanda su chi effettivamente fosse Ducezio diventa sterile. Sicuramente si trattava di un personaggio che proveniva da una famiglia nobile, questo lo sappiamo direttamente da Diodoro, e sicuramente si trattava di un personaggio che tramite un'interazione a volte più, a volte meno conflittuale con il mondo greco, stava puntando a costituire una realtà sicula, ma anche una sua propria realtà potente ed egemone. Nel 460 a.C. noi sappiamo da Diodoro che Ducezio si muove contro Catania. Catania, ricordiamolo, era stata fondata strappando la terra ai Siculi, e Diodoro dice che proprio per questo Ducezio nutre ostilità nei confronti della colonia. Immediatamente si sarebbe tentati di dipingere quindi Ducezio come una sorta di eroe della riscossa sicula contro i Greci. Eppure già dai suoi primi passi noi vediamo che Ducezio agisce sia contro esponenti del mondo greco ma sia accanto ad essi, infatti all'esercito siculo di Ducezio contro Catania si unisce come alleato l'esercito di Siracusa. Addirittura noi vedremo che dopo che i Catanesi verranno sconfitti e verranno scacciati dalla loro città, se effettivamente Catania verrà ripopolata con Siculi, le terre intorno a Catania, tutti gli appezzamenti di terra che facevano riferimento alla polis, verranno suddivisi tra i Siculi di Ducezio e tra i Siracusani. Quindi da subito la figura di Ducezio mostra una grande maturità politica che non può però per questo essere coniugata con la figura di un combattente per la libertà dei Siculi. L'ha detto comunque che il nome stesso Ducezio forse potrebbe nascondere più che altro un titolo, si potrebbe in qualche modo equalizzare con il latino dux, quindi forse siamo davanti all'insorgere di una carica di un titolo che in qualche modo sottintendeva una figura con forti prerogative militari pansicule, o che perlomeno puntava dal suo punto di vista, da quello di Ducezio Uomo, a un riconoscimento come una figura pansicula. L'anno successivo alla presa di Catania Ducezio fonda Menaenum, l'odierna Mineo, appunto in provincia di Catania, ed assegna a tutti i suoi sudditi diversi appezzamenti di terra. Subito dopo poi dichiara guerra alla polis greca di Morgantina, sconfiggendola, conquistandola e radendola al suolo, guadagnando così ulteriore stima e rispetto da parte del mondo siculo. Ma sarà nel 452 a.C. che Ducezio compirà il suo passo più importante. Diodoro ci dice che fonderà una lega alla quale aderiranno tutte le città sicule tranne una, Ibla. Diodoro per indicare la lega fondata da Ducezio utilizza un termine particolare, koinen synteleian, andando ad accostare al termine greco koinon, che indica semplicemente uno stato, il termine synteleia, che indica invece una federazione, una struttura federale, dove diversi centri minori sono subordinati, in particolare da un punto di vista economico, a un centro principale. Forse il centro principale della lega, della synteleia fondata da Ducezio, era appunto Menaenum. Effettivamente Diodoro ci dice che proprio in concomitanza con la fondazione della lega Menaenum viene rifondata in un altro luogo, in un'ampia pianura. Trattandosi però di una città nuova che era stata appunto appena fondata da Ducezio, la synteleia dei Siculi non può essere intesa come la synteleia di Menaenum, ma in realtà il centro egemone più che la città è Ducezio stesso. Qui appunto probabilmente la ragione per cui Diodoro cita Ducezio a volte come re, ma a volte come condottiero, ma altre volte ancora come tiranno. Noi vedremo che Ducezio comunque, e questo è veramente sorprendente, cerca di compiere a grandissima velocità tutti i passi necessari per giungere a un koinon vero e proprio. Un koinon infatti solitamente si crea creando sia una struttura federale di tipo militare che prevede una collaborazione, un'unione di più centri contro un nemico comune, quindi una collaborazione di tipo appunto militare, e poi creando uno strato di credenze, di miti, una comunanza religiosa comune. E Ducezio ci riesce, fondando un'altra città, un'ulteriore città, Palichè, nei pressi di un santuario riconosciuto da tutti i Siculi perché dedicato alla coppia dei Gemelli Divini noti come Palici, che erano particolarmente onorati dal mondo Siculo. Insomma noi oggettivamente siamo davanti a un percorso che presso altre realtà del mondo greco, ad esempio, aveva necessitato decenni, che viene fatto a grandissima velocità. È evidente quindi che Ducezio se da una parte sicuramente in una certa misura ammicca all'idea dell'indipendenza dei Siculi, in qualche modo vuole giocare il ruolo di eroe dei Siculi, da un altro punto di vista ha sicuramente appreso molto, e sta facendo tesoro, e sta riapplicando tutto un bagaglio che è proprio del mondo greco. La parabola di Ducezio sembra in costante crescita, e nel 451 a.C. il condottiero Siculo riesce a conquistare la polis di Aetna, dove si erano rifugiati quegli stessi Greci che lui aveva scacciato da Catania. Subito dopo le forze Sicule pongono sotto assedio la piazzaforte di Motium, una fortezza degli Agrigentini. Ora però il mondo greco di Sicilia si è finalmente reso conto della pericolosità di Ducezio, e in soccorso di Agrigento giunge l'esercito di Siracusa. Le forze congiunte di siracusani e agrigentini affrontano quelle della Lega Sicula sotto le mura di Motium, ma incredibilmente sono i guerrieri di Ducezio a vincere lo scontro, e non solo riescono a volgere in fuga le forze dei Greci, ma anche a conquistare la piazzaforte. L'anno successivo però un nuovo esercito siracusano piomba su Ducezio, che è accampato nei pressi di Monte Iudice. Ne scaturisce una battaglia sanguinosa che questa volta viene vinta dai Greci, e una grossa petta dell'esercito Siculo si volge in fuga, abbandonando il suo condottiero. Contemporaneamente le forze agrigentine riescono a riconquistare Motium, e dopo aver lasciato una piccola guarnigione all'interno della piazzaforte vanno a congiungersi con le forze siracusane, che nel frattempo sono accampate nei pressi di ciò che resta dell'esercito di Ducezio. Il condottiero Siculo, ora per trarsi d'impaccio, riesce a stupire tutti, esibendosi in un gesto tanto plateale quanto inaspettato. Nottetempo abbandona il suo accampamento, nel quale oltretutto alcuni dei suoi uomini pare stessero tramando di venderlo ai Greci, e si reca a Siracusa, penetra nella città e si pone in posizione di supplice dinanzi agli altari che sono al centro della stessa. La mattina dopo gli abitanti di Siracusa si svegliano e trovano il condottiero dei Siculi in posizione implorante al centro della loro città dinanzi agli altari degli dèi, e risolvono infine per graziarlo. Ducezio verrà esiliato dalla Sicilia e inviato a Corinto, ma non verrà ucciso. Sconfitto ed esiliato a Corinto, la parabola di Ducezio sembra infine essere giunta al termine. Eppure nel 446 a.C. il condottiero Siculo, adducendo a giustificazione l'essere stato visitato in sogno da un oracolo, abbandonerà la Grecia, tornerà in Sicilia e fonderà l'ennesima città, Calè Actè, l'odierna Caronia. Curiosamente secondo Diodoro alla fondazione di Calè Actè comparteciperanno elementi siculi ed elementi greci. D'altra parte è impensabile che Ducezio abbia agito senza il benestare di Siracusa, tant'è che Agrigento, indispettita con la vecchia alleata per aver concesso a Ducezio non solo di tornare in patria, ma addirittura di fondare una città arriverà a dichiararle guerra. Secondo Diodoro Ducezio dopo la fondazione di Calè Actè riprenderà a coltivare mire hegemoniche, ma nel 440 a.C. morirà stroncato dalla malattia. Alla morte di Ducezio si accompagnerà la fine dell'indipendenza del Mondo Siculo. Infatti lo stesso anno Siracusa muoverà contro la città di Trinachie, che secondo Diodoro era l'ultimo centrosiculo ad essere rimasto indipendente. Diodoro descrive Trinachie come un centro da sempre egemone per il Mondo Siculo, una città frequentata da capi guerrieri importanti ed influenti, e si fa strada quindi il ragionevole dubbio che si tratti semplicemente di un altro nome per definire o Palichè o Menaenum. In ogni caso Diodoro descrive l'assedio di Trinachie con toni epici e drammatici. I guerrieri siculi si battono fino all'ultimo uomo e gli anziani della città preferiscono suicidarsi che venire presi prigionieri. I pochi sopravvissuti di Trinachie verranno condotti in schiavitù dai siracusani, che comunque vengono lodati da Diodoro per essere riusciti a sconfiggere un nemico che non era mai stato battuto prima di allora. A segnare quanto sia determinante la conquista di Trinachie, che poi verrà anche distrutta, i siracusani invieranno in Grecia, al santuario di Delfi, le parti migliori del tesoro della città, sottolineando così un momento di svolta per la storia dei greci di Sicilia. Una delle principali divinità onorate dai Siculi era Adranos, un dio che è difficile da ricondurre in seno all'interpretazione romana, e questo perché di volta in volta viene accostato a divinità diverse. Plutarco ne parla di un dio armato di lancia, e questo potrebbe creare un collegamento con Marte. Ma il santuario di Adranos, posto alle pendici dell'Etna, viene di volta in volta ricondotto o a Vulcano o a Giove. Secondo Eliano il santuario di Adranos era custodito da non meno di mille cani, che per forme e dimensione, bellezza e possanza erano addirittura superiori ai molossi. I mastini di Adranos erano docili nei confronti dei fedeli, arrivando addirittura a riaccompagnarli a casa quando si ubriacavano a seguito delle abbondanti libagioni che si consumavano presso il Tempio durante i giorni festivi. Al contrario però erano mordaci nei confronti degli Empi, arrivando a stracciare loro le vesti, e addirittura sbranavano i ladri. Adranos era padre dei gemelli Palici, un'altra entità divina particolarmente onorata dai Siculi, e identificata con una coppia di sorgenti sulfuree vulcaniche, di fatto dei geyser, che scaturivano presso i laghetti di Naftia. Era proprio nei pressi di queste sorgenti che Ducezio aveva fatto erigere la città sacra di Palichè. Secondo il mito riportato da Macrobio, Zeus Adranos aveva irretito una ninfa, o la ninfa Etna o la ninfa Thalia. La ninfa rimasta incinta e, temendo la vendetta di Hera, si era nascosta sottoterra. Quando però era arrivata al punto di dover dare la luce alla coppia di gemelli che portava dentro di sé, questi erano scaturiti come due getti d'acqua dal terreno, dando così origine alle due sorgenti sulfuree, ai due geyser. Termina qui questo intervento sui Siculi, se vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.